Fulbicità Eccoci, pasticcino per uno? Sì, siamo pronti Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora raga, oggi faremo qualcosa di diverso dal solito Sì Diverso dalle nostre super degustazioni che facciamo di solito E abbiamo pensato di rispondere a delle domande Giusto pasticcino? A chi è più o chi è meno? Ovviamente alzeremo un foglietto con scritto i nomi Yes, un nomi alzerà o Sandra o Giberto In base a chi è più o chi è meno Ok E quindi basta Le domande sono circa 20 Buona visione raga Siamo pronti? Ok iniziamo Allora, pasticcino Che parte? Inizia tu No, inizia tu Che fai? Chi fa più festa? Vi concordiamo? Vai sì Chi è meno vivace? Pasticcino immaginavo Poi Chi è più pigro? Morto Chi è più romantico? Oddio Aiuto Forse dai Forse dai Forse dai Forse dai Forse dai Forse dai Forse sì Non so di entrambi Beh ci sta Effettivamente sì Si può rispondere anche con la risposta a tutti i blog Sì Però sì Effettivamente sì Siamo un po' la pari forse Sì dai Ci sta Vai Tocca te Poi Chi è più divertente? In realtà chi è meno divertente Ok Chi è meno divertente? Praticamente tutte le risorse sono Sandra Ok Chi è più dipendente dei cellulari verba? Nese Certo Certo Poi come è sicuro Sì Oddio È al contrario Allora è stato sempre al contrario magari Vai Poi Poi Chi è più spendocione? Beh Un po' come è sicuro Abbiamo fatto Chi cucina meglio? Oddio Non lo saprei Dai No allora non so che è il mio Non vale Stai parando Tutte due Bene vai Poi Chi guida meglio? Ovvio Cioè No Basta cambia nome? No Guido sempre io poi Vai Tocca me Chi è più disciplinato con l'esercizio fisico? Beh palese Cioè dai Sì ovvio Io sono per i dolci No scherzavo Sono io Ovviamente Vai Chi è più bugiardo? Io Non lo so Ma secondo me hai messo uno dei due Non è che secondo fa Però dai Ma andiamo per esclusione Facciamo così dai Mettiamo tutti i due Per sicurezza Chi è più festidioso quando ha fame? Beh Ognuno ha risposto con il suo nome giustamente Beh dipende dalla situazione Esatto Chi è più geloso? Beh Sicuro 100% Perché? Perché dissidi Perché dissidi Deve dare le motivazioni Non do le motivazioni Non mi è stato chiesto di avere le motivazioni Deve solo rispondere Ok Spero che si segna Però sì Chi è più disordinato? Allora vi dico Beh dipende Perché qui ognuno ha il suo modo di ordine Quindi così Fuori Sì Anche se Cioè dipende Anche se secondo me è così Esatto Anche secondo me è così Non so perché ma Che stronzo Poi Chi impiega più tempo a prepararsi? Allora Solo per una questione di Ecco Io dico Sandra Solo per una questione di No vai Starei la tua risposta Ma che secondo me è? Vabbè Perché capelli Vabbè tutto Cioè Le donne sono Sono più lunghe a prepararsi Vabbè Ci sono anche uomini che sono lunghi Beh io no No Vabbè Pergunte Ok Per un test Chi è più bravo a fare scherzi? Beh Beh mi dispiace ma io non so farli Esatto Esattamente Io sono quello di scherzi tutti i giorni Praticamente Chi è più irascibile? Oh signore Allora Io faccio proprio Io anche Perché purtroppo Anche tu Lo sai No sì Sicuramente Ma non lo nego Cioè Palese Poi Tocca da Chi è più geloso? Chi è più geloso? L'abbiamo già fatto? No Chi è più geloso? Occhia Ok Chi è più geloso? Così Però Ne aggiungo un po' anche io Mi ha messo solo il tuo Stronza Non è vero? Buciarda Vabbè Sì dai Anche io Sandra E quindi Anche l'altro Prima lei Poi io Lei mangia dolce tutti i giorni Non è vero Palese Palese Questo Chi è più bravo a cantare? Bello Ovviamente Io Cioè Dopo facciamo Vogliamo le prove vero? Esatto Per Sanca Perfetto Beh anche per te Va bene Vai Chi pensa di avere sempre ragione? Beh palese Ovviamente Cioè Ovvio Sì Ha sempre ragione E non si discute proprio E non si discute Esatto Bene Le 22 le abbiamo fatte raga È stato carino no? Qualcosa È stata una cosa diversa Speriamo che ovviamente vi piaccia E Se vi è piaciuto ovviamente Vi lasciate un like E un commento Se volete altri video così Fatecelo sapere Scriveteci magari anche le domande così Eh esatto Magari Facciamo qualcosa di diverso Esatto E ovviamente Iscrivetevi al nostro canale E attivatevi la campanina Mi raccomando Così Adesso vi arriva la notifica Ottimo In tutto c'è La moto ragazza Intanto c'è Chi chi che sta leccando Appassionatamente Sandra Perciò la crema Esatto Sì Vabbè E raga Ci vediamo al prossimo video ovviamente Sì Ciao guys Ciao Pubblicità Speriamo che ho acceso Ma mi erano tutti i jeans Al prossimo video ovviamente